2 a 1 Siamo tutti sgolati Alla fine del secondo tempo Quasi alla fine del secondo tempo Tutti sgolati Abbiamo bisogno di Un altro gol da parte dei Bari Sei il Bari? Sei il Bari? No, è vero Quali gioco, ragazzi Se questo è un gol, ragazzi Come vincere Aveva lanciato un giubotto di 200 euro a terra Voglio molto Mi piace per la vittoria del Bari Se riuscirà a vincere Anche se è sicuro Allora, venendo alzaci come al 100 Però non si sa mai, ragazzi Sempre può accadere qualcosa C'è un giocatore buttata a terra Non so se si vede Ecco, quello con la valetaria Molto Ragazzi Lo stadio è in delirio I giocatori E gli avversari sono molto pochi E credo che se no È una cosa molto importante L'albitro secondo o no Secondo quasi tutti noi È stato venduto Perché ragazzi Ha dato un fallo al Bari Solo pochissime volte Invece A Vicenza Pochissimi Anzi Moltissimi Rigori Moltissimi Falli Molto C'è Raga Tanta roba per loro Ma Rigori no Veramente Allora E l'albitro È molto più che venduto Se oggi vinceremo Se oggi vinceremo Prometto che Vi porto un altro video Non di questo Perché qualcosa Capiterà del Bari Che verrò Ve lo farò vedere Ma ora Basta giocare Basta parlare E godiamoci la partita Infortunio Porterà Altri minuti Di recupero Circa dieci E se è giusto Allora La cosa più importante Siamo in curva Norte ragazzi La curva più La curva più Sul tanti Allora Ragazzi Venite Ciao 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 Grazie.